Cresce il numero dei bambini iscritti agli asili nido comunali o sonvenzionati, anche se la quota di domanda soddisfatta è ancora limitata rispetto al potenziale bacino di utenza e soprattutto cresce la spesa per le famiglie. È uno dei dati che emerge dal rapporto sulla coesione sociale 2012 dell'Istat, IMS e Ministero del Lavoro. I bambini degli asili nido sono passati dal 9% dei residenti tra 0 e 2 anni nell'anno scolastico 2003-2004 all'11,8 nel 2010-2011, con quasi 158.000 iscritti nelle strutture comunali, mentre altri 43.800 in strutture convenzionate o sovvenzionate dal comune. E tra il 2004 e il 2010 aumenta anche la spesa corrente per asili nido. L'incremento registrato è del 44%, che scende al 26,9% se calcolato a prezzi costanti, mentre cresce la percentuale di comuni che offre un servizio di asilo nido sotto forma di strutture comunali o di trasferimenti alle famiglie che usufruiscono di strutture private, passando dal 32% del 2004 al 47% del 2011.